Musica Somos niños de la tierra, estrellas del sol Somos el campo del viento, el nuestro camino Luz Amparo Zorro, tu porti in giro la tua musica, raccontaci qualcosa di te Allora, ho incontrato la musica celebrativa e i canti spirituali, deluzionali, delicina, delle varie culture del mondo molto presto nella mia vita, avevo dieci nove anni e la prima volta quando sentivo questi canti sentivo proprio qualcosa dentro di me che si risvegliava si sentivo proprio la vibrazione, l'energia che iniziava a scorrere e quindi ho fatto tipo sei anni in viaggio e in questi anni raccoglievo canti ovunque dove sentivo i canti che mi toccavano, li imparavo subito a memoria e quindi questo è successo quando avevo diecinue anni quindi in venticinque anni ho raccolto centinaia di canzoni E quindi adesso ti esibisci in concerti, in giro, dove ti si può trovare? Allora, concerti no, perché sono un'artista celebrativa così mi piace denominarmi perché la mia arte è celebrativa quindi non è che io suono e c'è il pubblico io suono e vorrei coinvolgere tutti quanti a suonare con me, a cantare con me e quindi a lanciarsi in questo volo meraviglioso come vi Grazie a tutti.